Ragazzi oggi è un video diverso, è un video dove dico in due parole che è successa una cosa brutta in famiglia e per questo oggi il video sarà giusto per farlo il video siamo in partenza per Bologna e l'UCC si sta preparando di là però per rispetto della persona, dei familiari, degli amici non diremo nulla perciò è successa questa cosa brutta e il video durerà meno meno di due minuti ripeto siamo in viaggio per Bologna e basta ragazzi non ho più parole il video termina qui ripeto è durato forse meno di un minuto e mezzo ciao ragazzi ciao